Sì, mi sono prolungato perché ho detto Io oggi faccio diamante 1 e non me ne frega niente Con la sfida del Dino Oh ragazzi, benvenuti in questo nuovo video E in questo video vi voglio mostrare il deck con la quale questo mese abbiamo fatto Diamante 1 Che hanno scelto i ragazzi direttamente in live Abbiamo fatto un sondaggio ragazzi con quale deck volete che facciamo Diamante 1 da Diamante 5 Ebbene è saltato fuori il dinosauro ragazzi E' stata un'agonia Il deck è stato un'agonia, vi spiego Da Diamante 5 a Diamante 2 Problemi non ce ne sono state Ma da Diamante 2 a Diamante 1 Era un continuo saliscendi, saliscendi Ma perché era un saliscendi? Brick del deck Eldritch a raffica la volta scorsa Invece quest'oggi, proprio oggi, proprio il giorno di pubblicazione del video Abbiamo fatto la live dove abbiamo continuato a rancare E oggi è stato diverso Però, allora Oggi è stato diverso Ma era tutto comunque un equilibrio-squilibrio Insomma di mani brutte Di giocate sbagliate da parte mia Poi hanno sbagliato anche a giocare gli avversari Però vabbè Al di là di tutto Il deck ha performato in un modo che Insomma abbiamo chiuso in positivo Ma non è che fosse così positivo Ok, c'è il 42-26 Però sono sempre 26 sconfitte 42 win Il deck si conferma comunque essere quello che è un T3 No? Non un T2, non un T1 Molto spesso abbiamo visto delle brutte mani Un Ashe tirato, un Max C tirato Che non potevano fermare Ci ha causato veramente grossi problemi Quando abbiamo iniziato a incontrare troppe Ma veramente un Eldritch dietro l'altra E l'altra, vabbè, l'altro Un Eldritch dietro l'altro Ha iniziato a mendeccare a caso Spolverine e doppio fulmine Tempesta Doppio fulmine Tempesta perché ne ho due Che comunque erano searchabili ad ogni modo di Jara Per cui comunque le possibilità Di andarle a pescare c'erano Siamo andati a 44 carte da 41 che erano Le doppie goccioline Sono state comunque Quasi mai giocate Non ho quasi mai pescate, detto sinceramente Cioè quella volta che le ho pescate le ho settate Ma non le ho quasi mai giocate Proprio perché non le ho mai pescate in 68 partite Quasi mai, eh Quasi mai, giuro Eh, a parte qualche volta Comunque La decklist è questa qui Partiamo dall'Arcosauro Anima Dornato Comunque ad ogni modo abbiamo Abbiamo fatto la video guida introduttiva Must Must 3 Baby Must 3 Max Must il piccolo Teranodon Must 3 Ash Must Must Il Rex Chimera Tutto must Insomma quello che c'è qui Assolutamente Spolverine e Fulmini Tempesta Li ho usati contro Eldich Ma poi la mano non mi ha aiutato A partire e così via Per cui sono stati anche inutili da quel punto di vista lì Cioè Ok mi hanno pulito delle board Però Comunque il deck non mi ha aiutato A sistemare Insomma le situazioni Quando riuscivo a pulire Insomma Sono stato Comunque mi sono ritrovato alla merce Comunque degli Eldich Che mi hanno completamente annientato Molto e troppo spesso Per cui Giocarle o non giocarle Quasi 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 inutili Cioè Ovviamente hanno buttato giù tutto Però quasi inutili Non Ho perso le partite Dove ho tirato questa roba qui Ad ogni modo Sono stati utili contro altri deck Che insomma hanno distrutto Most in attacco Hanno baitato la Baronessa E così via Per cui comunque il loro lavoro L'hanno fatto No Poi vabbè Doppia pillola Must Terraforming Must Tutto must A parte le due goccioline Che praticamente non ho quasi mai usate Quasi 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 ad andarle a togliere No In questo deck Perché tanto la potenza del tiranno è tale Che tu lo evochi e picchi tutti Non c'è un problema No Ehm Ad ogni modo Per il resto Il deck Ha performato Come si supponeva Non un top tier Non un top meta Un tier 3 Ha regalato emozioni Ma ha regalato anche grossi dispiacere Assolutamente L'extra deck invece Avevo un pelo in bocca Scusate L'extra deck invece È stato molto versatile Perché abbiamo Sia utilizzato spesso Savage Abbiamo usato Lagia Dolca Non abbiamo mai utilizzato Dweller Mai Perché non è metodo Dweller Abbiamo utilizzato Baguska Che in un'occasione In un'occasione Veramente è stata Contro Sborsol È stata apocalittica Vi farò vedere adesso Qui Mentre sto parlando Praticamente È stato veramente Incredibile Baguska Veramente molto risolutivo Contro Sborsol Ci ha gestito un'intera board Sotto max L'abbiamo piazzato La versione non poteva farci in permanence Perché c'era il token di Lost World È stato veramente pazzesco Questo Baguska Veramente veramente incredibile Dugares ci ha aiutato tantissimo A farci arti OTK Zeus Ci ha aiutato L'abbiamo usato una volta Zeus Sì 68 partite Per cui L'Inculibe Gardena Sempre utili Il Cerbero Evocato forse una volta In fase di sconfitta Nulla di particolare Fenice Sempre molto forti Siamo a Pente Star che ci faceva fare Combo con Tiranno Perforante Dugares Scrap Wyvermust Unicorno Anche questa Quei una carta Che ci ha aiutato molto Anche a recuperare Eventualmente Nei turni successivi Ci ha fatto fare La doppia draw E rimaneva indistruttibile Insieme a Fenice Che Fenice Allora rendeva indistruttibile In battaglia per cui Diventavano entrambi Fortissimi E ci faceva pescare Apple l'usa Sempre must Cosa vorrei cambiare Nel deck Beh Togliere eventualmente Le goccioline Pam pam Togliere il Dweller E trovare Qualcos'altro di più Togliere il Cerber E trovare qualcos'altro Di più utile Adesso non saprei Ma comunque Ho sentito Il bisogno di Di un eventuale Xyz 4 Molto più forte Risolutivo Un Link 4 Eventualmente Che facesse le cose Non so tipo Access code Access code Ne ho sentito la mancanza Sono sincero Ne ho sentito Veramente la mancanza Infatti lo vado Ad inserire Perché c'era quella Qualche volta Che potevamo fare Combo Destra Sinistra Eccetera Ma ci mancava Quell'access code Che ci aiutava A bitare E tu dici Vabbè ma c'hai il tiranno Sì Era quello che pensavo Anche io Ma invece access code Ragazzi Era Era abbastanza importante Come Quindicesima carta Invece ancora Ci devo pensare Francamente Il risultato Comunque ad ogni modo Lo vediamo qui Ad ogni modo Non è stato Né Né troppo Non Sono pienamente Soddisfatto Per cui Questo mese Qui Ok Abbiamo sputato sangue Per chi l'ha visto in live Sa bene Ma questa è quella La mia esperienza ragazzi Con il dinosauro Verso il diamante 1 Non so voi Ho sbagliato anche Molte giocate Molti di voi l'hanno visto E Come anche gli avversari Hanno sbagliato anche loro Molte giocate Per cui Alla fine Ho sbagliato io Ho sbagliato loro È stato un botta e risposta No Per cui ci annulliamo Completamente Ma ad ogni modo Le mie Come si può dire Le mie Le mie analisi Riguardo il deck Sono queste È stato un deck Con la quale Sì mi sono divertito Però Veramente 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 Pesante Per fare una mezza mossa Per avere Una parvenza di Di board Dove muovere Veramente troppo Troppa la merce di max c Troppa la merce di ash È stato veramente Un'agonia Un'agonia Forse Giocare I depennamenti Questa può essere una soluzione Può darsi di sì Ad ogni modo Lost world E mistosauro Ragazzi sono le carte Più forti del mazzo Impedivano al fatto che Venissero tagliatati I miei mostri Che l'avversario potesse Tirare Nibiro Molti molto spesso Tiravano Nibiro a cazzo Perché non si accorgevano Che mistosauro Immunizzava i dinosauri Infatti lo tiravano Perché poi in main phase Lo devi tirare Nibiro Non in battle Per cui Entravamo in battle I mostri non erano più immuni Da mistosauro E il tiranno Poteva chiudere Tranquillamente Senza andare sotto Nibiro Per cui mistosauro Assolutamente Carta anti Nibiro Ma assolutamente Ad ogni modo Questo è stato Il risultato Non sono Non sono contento L'ho già detto Più volte Questo è tutto Ragazzi Questo è tutto quanto Direi A un prossimo video Il prossimo mese Vediamo di fare un sondaggio Per utilizzare Il deck nuovo Flow under is Addument over token Insomma La release di luglio Vediamo con cos'altro Fare eventualmente Il diamante 1 Ed eventualmente Potrebbero mettere Anche il nuovo rango Credo Questo non lo so Però ad ogni modo Cercheremo di portare Cercherò di portare Insomma Un altro deck Con la quale faremo Diamante 1 Da diamante 5 A diamante 1 Nel modo in cui Abbiamo fatto Insomma col Despia Prima Col 277 Cos'era Non mi ricordo Più o meno circa E questo 42-26 Che è stato veramente Agonizzante Ad ogni modo ragazzi Vi ringrazio a tutti quanti Noi ci vediamo Un prossimo video Ci vediamo sempre in live E vi aspetto ragazzi Come al solito Vi aspetto Alla prossima Alla prossima Alla prossima